Sarà una pasquetta che non dimenticheranno facilmente i familiari di Mirko Lombardi, 35 anni, residente a Bucine, caduto con il suo ultraleggero e deceduto in seguito allo schianto. Il suo piccolo aereo era appena decollato dall'aviopista di Bettolle, che si trova in località S. Secco, in Valdichiana, al confine tra le province di Siena e Arezzo. Il veivolo in questo caso è precipitato nella parte sienese. Mirko, pilota esperto dal 1998, era l'unico a bordo del mezzo. Anche i documenti del suo ultraleggero erano in regola e niente, perlomeno sulla carta, poteva far presagire alla benché minima imprudenza. L'aereo si è schiantato a 150 metri dalle case e da un campo da golf. Soltanto per miracolo non ci sono altre vittime. Sul posto si sono subito portate le ambulanze del 118 Aretino e Sienese assieme ai Vigili del Fuoco. Purtroppo per il 35enne non c'era più nulla da fare. Mirko lascia una moglie, un figlio di appena due anni, di mestiere, faceva il falegname. La dinamica dell'incidente è adesso al vaglio dei carabinieri della compagnia di Montepulciano, che ascolteranno alcuni testimoni per cercare di capire cosa sia successo in quei maledetti minuti.